Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo video tutorial. All'interno di questo video vi spiego una cosa molto molto importante, ovvero come potete andare a cambiare la versione PHP che è attualmente attiva all'interno del vostro servizio di hosting, quindi proprio sul server dove è ospitato il vostro sito WordPress. Questa cosa naturalmente è molto importante perché se gestite un vostro sito web insomma da diverso tempo, sicuramente abbastanza di recente vi sono arrivate delle notifiche magari sulla baccheca del vostro sito dove vi indicavano che dovete fare l'upgrade della versione PHP sul vostro server. Questo perché le nuove versioni di WordPress richiedono insomma di andare ad utilizzare una versione PHP più aggiornata all'interno del servizio di hosting che state utilizzando appunto per il vostro sito WordPress. Quindi questa cosa è molto molto importante. Comunque sia ragazzi, se questa è la prima volta che vedete uno dei miei video, io mi chiamo Roberto Marchesini e sono il fondatore di assistenza WordPress, ovvero un sito web dove io insieme al mio team aiutiamo soprattutto aziende e professionisti a crearsi e gestirsi il proprio sito web utilizzando appunto WordPress. Naturalmente appunto di recente lavorando con molti clienti abbiamo dovuto per forza di cose andare ad aggiornare insomma la versione PHP del server dove sono situati appunto i siti dei nostri clienti. Quindi questa procedura la conosciamo davvero molto bene, quindi sono sicuro che questo video vi tornerà di grande aiuto anche a voi. Naturalmente se avete anche voi da gestire un vostro sito WordPress, ma suppongo di sì se state guardando questo video tutorial. Quindi detto questo adesso passiamo subito sulla parte pratica, quindi passiamo sul mio pc che vi faccio appunto vedere nella pratica su un hosting condiviso che noi abbiamo su Kelly Web, come potete andare ad aggiornare la versione PHP del vostro server. Comunque come vi ho appena detto io andrò ad utilizzare un server di Kelly Web. State tranquilli che se state utilizzando un'altra azienda di hosting come ad esempio SiteGround, The Hosting Solution, Serverplan, Aruba e così via, state tranquilli che riuscirete a seguire tranquillamente questo video tutorial. Detto questo, dopo questa lunga introduzione direi di passare proprio alla parte pratica che vi faccio vedere come potete andare a cambiare o ad aggiornare insomma la versione PHP all'interno del vostro servizio di hosting. Adesso ragazzi come vedete mi trovo sul dominio assistenza.vponline.net slash tutorial che è il dominio che utilizziamo insomma per fare questi video tutorial. Qui come vedete ho semplicemente installato WordPress e questo qui diciamo è il classico diciamo errore che vi segnala WordPress per quanto riguarda la versione obsoleta che avete attivo all'interno del vostro server, ovvero dove attualmente è situato il vostro sito web, quindi in sostanza l'azienda di hosting. Ora come vedete qui praticamente WordPress ci dice che è consigliato effettuare l'upgrade alla versione 7.4 di PHP. Questo perché praticamente quando escono nuove versioni di WordPress naturalmente il codice viene modificato, quindi il codice sorgente della piattaforma WordPress ed è ottimizzato per funzionare bene con le ultime versioni PHP. Ora non proprio con l'ultimissima versione PHP che in questo caso al momento in cui sto registrando il video è arrivata alla versione 8.0 ma con la versione diciamo più stabile di PHP. Comunque come vedete qui WordPress vi segnala che è consigliata la versione 7.4. Ora questo video vi faccio vedere come vi dicevo come potete andare a cambiare la versione PHP del vostro hosting se anche voi state utilizzando il cPanel all'interno dell'azienda di hosting. In questo caso noi utilizziamo KellyWeb perché abbiamo attivo un hosting condiviso che come potete vedere si chiama KellyCMS. In sostanza KellyWeb utilizza il cPanel per gestire i nostri siti web. Comunque se state utilizzando ad esempio Serverplan, The Hosting Solution, SiteGround, HostGator e così via quindi un'azienda che utilizza il cPanel potete tranquillamente seguire questa procedura. Poi comunque vi faccio vedere anche come potete andare ad aggiornare la versione PHP del server anche se state utilizzando Aruba come hosting perché so insomma che molti di voi utilizzate ancora Aruba come azienda di hosting. Comunque se utilizzate il cPanel semplicemente qui magari da KellyWeb andate qui su hosting e andate appunto all'interno del cPanel. Una volta che siete entrati all'interno del cPanel vi basta semplicemente andare qui sulla barra di ricerca scrivere appunto PHP come vedete e andate semplicemente a cliccare su gestione multi PHP se avete molteplici installazioni di WordPress all'interno del cPanel oppure andate ad aprirmi praticamente la selezione PHP quindi diciamo questa voce. Quindi adesso vado semplicemente a cliccare su questa funzionalità e adesso si apre una pagina dove possiamo andare a selezionare la nostra versione PHP e qui semplicemente vado a selezionare il mio dominio ancora che è assistenza.vponline.net che lo potete vedere anche qui dal mio sito demo e semplicemente quindi lo vado a selezionare vado a selezionare la versione PHP cliccando appunto su questo pulsante e in automatico come vedete adesso la versione PHP è la versione 7.4. Ora questa procedura può cambiare leggermente per quanto riguarda il vostro dominio comunque una volta che avete cliccato appunto sul selettore della scelta PHP semplicemente andate a scegliere la versione 7.4 oppure la versione che vi suggerisce qui WordPress stesso quindi direttamente dalla bacheca del vostro sito ancora come vedete qui è suggerito la versione 7.4 ed ecco qua che adesso è attiva appunto la versione 7.4 quindi detto questo ora che la versione PHP è stata cambiata mi basta andare qui sulla bacheca di WordPress andare ad aggiornare la pagina e adesso come sicuramente vedrete ecco qua che diciamo la notifica della versione PHP è scomparsa questo naturalmente sta a significare che effettivamente abbiamo cambiato la versione PHP all'interno del nostro servizio di hosting quindi direi perfetto ora ragazzi vi faccio vedere come potete andare ad aggiornare la versione PHP se invece voi state utilizzando il server di Aruba come spazio di hosting quindi semplicemente adesso non ho comunque un sito all'interno del server di Aruba comunque la procedura è davvero molto semplice ovviamente effettuate il login sulla vostra area clienti andate sul vostro dominio e andate all'interno del pannello di controllo quindi cliccando appunto su questo pulsante una volta che siete qui semplicemente qui su gestione servizi acquistati andate su strumenti e impostazioni quindi cliccando su questa voce e qui come prima cosa come potete vedere potete andare a scegliere la versione PHP del vostro server quindi ancora semplicemente andate a cliccare su seleziona vi si aprirà una nuova pagina e qui come vedete trovate le varie versioni PHP semplicemente andate a selezionare la versione PHP 7.4 che in questo caso su questo server è selezionata di default se non è selezionata comunque andate a mettere la spunta qui e andate a cliccare su salva e in questo modo come per quanto riguarda Kelly Web verrà praticamente cambiata la versione PHP all'interno del vostro spazio di hosting ora ragazzi avete praticamente aggiornato la versione PHP sul vostro server quindi perfetto comunque mi raccomando magari tornate indietro a guardarvi questo video quando dovete ancora andare ad aggiornare la versione PHP se magari andrete a cambiare hosting per quanto riguarda il vostro sito web come avete visto comunque andare ad aggiornare la versione PHP sul vostro spazio di hosting ed avere una procedura semplice ma che comunque insomma dovete fare un po' di attenzione un'altra cosa mi sono dimenticato di dirvi per quanto riguarda l'hosting di Aruba ovvero che se voi avete un vostro sito web che è ospitato appunto sui server di Aruba magari da diversi anni e se andate qui sulla scelta della versione PHP non trovate la versione PHP 7.4 quello che dovete fare è semplicemente contattare il supporto clienti di Aruba e chiedergli di andare a spostare i vostri siti web o il vostro sito web su un server più aggiornato ora questa non è assolutamente una cosa da prendere sotto gamba diciamo perché è una cosa che mi è capitata con diversi nostri clienti semplicemente andate a contattare ancora il supporto clienti di Aruba e loro vi faranno il cambio di hosting in modo praticamente gratuito mi raccomando però che prima di fare questa richiesta andate comunque per sicurezza ad effettuare un backup completo di tutti i vostri siti web che sono situati su questo server mi raccomando che è una cosa molto importante in questo modo se per qualsiasi motivo insomma il sito web non dovesse più funzionare correttamente con la nuova versione PHP del nuovo server potete tranquillamente insomma ripristinare la situazione come era prima e se comunque il sito non funziona bene con l'ultima versione PHP semplicemente qui sempre dalla scelta della versione PHP andate a scegliere la versione PHP che stavate utilizzando sul server precedente e poi naturalmente andate ad adattare il vostro sito in modo tale che sia compatibile quindi in modo tale che può funzionare perfettamente con la versione 7.4 di PHP che appunto è la versione attuale che WordPress vi consiglia di utilizzare per il vostro sito web. Ok ragazzi siamo arrivati alla fine del video come sempre se vi sono stato di aiuto con questo tutorial per cortesia lasciatemi almeno un bel mi piace sotto a questo video così mi aiutate insomma a raggiungere sempre più persone con i miei video tutorial e ancora come sempre se non lo avete ancora fatto vi invito anche ad iscrivervi al nostro canale YouTube perché negli anni insomma ho caricato davvero centinaia di video tutorial in modo completamente gratuito oppure potete tranquillamente mettere sempre un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook in questo modo verrete notificati insomma quando andrò a caricare nuovi video tutorial sempre su questi argomenti che penso vi possono tornare di aiuto adesso o in futuro per i vostri progetti online. Detto questo se qualcosa non vi è stato chiaro su quello che vi ho spiegato all'interno di questo tutorial mi sembra di avervi spiegato insomma in modo molto chiaro tutti i passaggi per aggiornare insomma la versione PHP all'interno del vostro hosting comunque se avete ancora dei dubbi o delle domande potete tranquillamente scrivermi il vostro commento sempre qui sotto al video io leggo sempre tutti i commenti e cerco di fare il possibile per rispondere a tutti naturalmente ragazzi sempre tempo permettendo che purtroppo insomma il tempo è sempre poco per tutti. Comunque ragazzi vi ringrazio per aver visto questo video tutorial fino alla fine ma noi naturalmente ci vediamo all'interno del prossimo video quindi per ora vi saluto ma ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao a tutti. Grazie a tutti.